Era stato arrestato nel 2008 nell'ambito dell'operazione Addio Pizzo e poi successivamente nel 2014 nell'operazione Apocalisse in quanto ritenuto vicino alla famiglia mafiosa del quartiere palermitano dell'Acqua Santa. Ora Vincenzo Graziano, il costruttore noto anche come Vicuzzo, vede smantellare il suo impero. Confisca di beni per 30 milioni di euro è eseguita questa mattina dai carabinieri su decisione della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. Stando alle indagini infatti i beni in possesso di Graziano sarebbero stati frutto del reinvestimento dei capitali acquisiti dalle attività criminali di Cosa Nostra. Già in passato nel 2009 un ingente patrimonio era stato sequestrato tra Palermo e la provincia di Udine. Con questo provvedimento vengono posti i sigilli al capitale sociale dell'SRL con sede nel capologo siciliano Palermo AFG Costruzioni, MG Costruzioni, Costruzioni Generali, AG Costruzioni e Immobiliare. Queste ultime in particolare con sede a Tavagnacco nell'area di Udine. Confiscati anche tre magazzini, un garage, tre abitazioni di cui una a Cinisi e appezzamenti di terreno tra Palermo e Trabia. Oltre ad otto auto rimesse, altre tante abitazioni e due appartamenti a Martignacco nell'Udinese. Due moto, un'imbarcazione e la quota di un'altra imbarcazione e 30 rapporti bancari.